La collegiana ospita la capolista Delta Rovigo. L'allenatore Stefano Carobi manda in campo la stessa formazione schierata sette giorni fa contro la San Giovannese. 4-2-3-1 con i tre quartisti Islamai, Biagi e Cristiano dietro l'unica punta Crocetti. Prima della partita ufficializzata la donazione della fondazione Carobi Ceregatti con l'appoggio del Delta Rovigo alla società di calcio di Norcia danneggiata dal terremoto. Osservato anche un minuto di silenzio per le vittime dell'hotel Rigopiano distrutto da una slavina. Partita molto dura, giocata soprattutto a centrocampo e con molti scontri fisici anche molto duri. Poche le occasioni da rete. Inizia la collegiana al diciassettesimo. Progressione di strano. Passaggio per Islamai, tiro sull'esterno della rete. Al quarantaseiesimo occasionissima per il Delta Rovigo. Lancio di Nichele, spizza Ferrari, colpisce il pallone Taffi, carambola in area. Fortunato colpisce la traversa. Un minuto dopo risponde così la collegiana. Cross di Taffi, colpo di testa di Islamai che va a lambire il palo. Con l'immagine andiamo alla ripresa. Ancora meno le occasioni da gol in questo caso. La principale per il Delta Rovigo è questo colpo del quarantenne Zubin che però va molto lontano dal palo. A pochi minuti dalla fine ci prova Pietro Battista da lontano ma anche in questo caso pallone fuori. Finisce quindi sul risultato di partenza. 0-0 tra Colligiana e Delta Rovigo. Buon punto comunque per la Colligiana che raggiunge l'ottavo risultato utile consecutivo. Grazie. Grazie. Grazie.